In Piemonte l'immigrazione sarebbe in calo, ma si sta facendo di tutto per evitare eccessive concentrazioni. L'assessore Monica Cerutti ha spiegato ai nostri microfoni qual è il piano regionale di accoglienza. Continua a crescere l'impegno della Compagnia di San Paolo. La fondazione, primo azionista di Intesa San Paolo, ha aumentato nel periodo 2012-2015 le erogazioni, pari a 536 milioni di euro, di cui l'80% in Piemonte con un focus sulla città metropolitana di Torino. Sono oltre 3.200 i progetti sostenuti. Dopo la morte di due ciclisti vittime di incidenti sulle strade di Torino, due associazioni ProBici, Bike Pride e FIAB sono scese in piazza per chiedere al comune maggiore sicurezza. Il dibattito su cosa si può fare per evitare altre tragedie è proseguito anche oggi, con un confronto tra la FIAB e l'assessore all'ambiente Enzo Lavolta. Come vengono progettati i videogame? Cosa li rende affascinanti? Fino al 31 gennaio, l'incubatore per le imprese innovative del Politecnico di Torino ospita la terza edizione della Global Game Jam, una full immersion di 48 ore dove più di 100 appassionati dovranno sviluppare un prototipo ad alto potenziale creativo. Ben ritrovati ai nostri telespettatori con il telegiornale di GRP. In Piemonte l'immigrazione sarebbe in calo ma si sta facendo di tutto comunque per evitare eccessive concentrazioni. L'assessore Cerutti ha spiegato ai nostri microfoni qual è il piano regionale di accoglienza. Assessore, anche con l'inizio del 2016 si continua a parlare del grande tema dell'immigrazione, un tema che coinvolge molti aspetti sociali, economici, politici ovviamente. Qual è la situazione in Piemonte? Qual è il trend? La situazione in Piemonte è sotto controllo. Noi parliamo adesso di circa 7.000 persone distribuite in piccoli nuclei su tutte le province. Da questo punto di vista ci teniamo a sottolineare che l'obiettivo regionale è proprio non costruire delle grandi concentrazioni. Ci stiamo così organizzando per i prossimi mesi anche se quello che è il trend generale ci dice che dal Mediterraneo i numeri si sono in qualche modo così contratti. Già dal 2014 al 2015 abbiamo avuto meno arrivi e già nel mese di gennaio, se confrontiamo 2015-2016, nuovamente gli arrivi sono inferiori. Devo dire però che dovremmo capire meglio quali sono invece gli altri arrivi, quelli via terra che utilizzano quindi la rotta balcanica e magari entrano in Italia attraverso il Friuli Venezia Giulia. E quindi questo sarà sicuramente argomento dei prossimi mesi e sarà anche argomento quindi di valutazione di carattere numerico. Su parere come stanno reagendo i piemontesi? I piemontesi devo dire stanno reagendo bene, sia perché forse appunto si è cercato di evitare le grandi concentrazioni, i paesi anche quelli più piccolini che inizialmente possono aver avuto diffidenza nei confronti appunto di questi nuovi arrivi, devo dire che nel tempo stanno sperimentando quelle che abbiamo chiamato appunto pratiche di volontariato civico e quindi di coinvolgimento delle persone che sono arrivate nei nostri territori in progetti di pubblica utilità. E quindi da questo punto di vista le persone si sono accorte che i richiedenti asilo arrivati sono persone come loro e anzi hanno anche voglia di mettersi in campo e quindi di non passare tutta la giornata, non far nulla, timore che sappiamo hanno i sindaci e che quindi in questo modo hanno potuto superare. La cronaca, violenti e armati di coltella hanno commesso due rapine ai danni di passanti in dieci minuti, tra Venaria e Torino. Sono un albanese, un marocchino, tre nomadi, tre italiani, di cui 7 milorenni e uno appena maggiorenne, l'unico a essere denunciato dai carabinieri, mentre tutti gli altri comunque sono stati arrestati. Gli otto hanno prima circondato e picchiato uno studente per prendergli il cellulare, poi hanno continuato a muoversi a bordo di un busso e della linea verso Torino e durante il tragitto hanno aggredito un secondo studente, sempre per rubare il telefonino. I carabinieri sono entrati in azione dopo essere stati chiamati dalla prima vittima. I giovani rapinatori hanno ammesso la loro responsabilità dopo essere stati trovati in possesso della refurtiva. La banda è sospettata di aver messo a segno altri colpi, sempre tra Torino e Venaria. Ha rubato 1.750 euro dalla cassa del ristorante in cui lavorava, ma è stata scoperta dal proprietario, arrestata dai carabinieri e poi posta ai domiciliari. È venuto al centro commerciale Legru di Grugliasco, nel Torinese, dove da qualche tempo si verificavano a manchi di denaro e anche di alcuni prodotti. La commessa in fedele, un'italiana di 39 anni, ha ammesso di essere la responsabile dei furti. Tutto il denaro è stato trovato a casa sua ed è stato quindi restituito al proprietario. Continua a crescere l'impegno della Compagnia di San Paolo. La fondazione, prima azionista dell'Intesa San Paolo, ha aumentato nel periodo 2012-2015 le erogazioni. Pare a 536 milioni di euro, l'80% in Piemonte, con un focus particolare sulla città metropolitana di Torino. Oltre 2.200 i progetti sostenuti per il 2016, distanziamenti, superano i 153 milioni, in aumento di oltre il 10%. Si chiude quindi con questi numeri la presidenza di Luca Remmert, che lascerà a fine aprile la guida della compagnia. Quando verrà il momento di andare via, ha detto, sono assolutamente tranquillo di lasciare la scrivania in ordine. Questo è per noi motivo di grande soddisfazione, ma a questo punto sentiamo direttamente le sue parole. Resta comunque forte l'impegno anche nel mondo del settore dei beni culturali, dell'arte e della cultura in generale. In un momento di crisi si riescono appunto a conciliare entrambe le istanze, mantenendo quindi un po' anche l'identità della Compagnia di San Paolo, che è sempre stata molto orientata in questo settore. Assolutamente sì, lo abbiamo dimostrato, credo, con i nostri interventi. La Compagnia di San Paolo ha investito sul cosiddetto polo reale più di 100 milioni di euro negli ultimi dieci anni. e credo che i risultati siano in un modo o nell'altro evidenti. Arte e cultura per noi è sempre stata vista come comunque un motore straordinario dell'economia e anche una risposta straordinaria alle esigenze dei giovani. È veramente, quindi siamo e continueremo ad essere impegnati e lo siamo su mille fronti. La Compagnia ormai è diventato sempre di più un protagonista del nostro territorio. Io dico sempre che la Compagnia ha bisogno di rispondere soprattutto alle esigenze, alle domande che provengono dal territorio. Abbiamo avuto in questi anni di crisi, che lei richiamava, sicuramente una richiesta da parte del sociale intensa. Il nostro budget si è molto orientato al sociale. Nello stesso tempo abbiamo lavorato, credo, su tutti i fronti con un metodo condiviso. Abbiamo creato una rete con tutti i soggetti del volontariato, del terzo settore, delle associazioni del territorio. Ecco questo credo che sia il segno più importante di questi ultimi anni di attività. La Compagnia, essendo così su tutti i fronti, la sfida più importante è forse quella di cercare di riuscire ad essere vicino agli anelli deboli della catena. Perché non dimentichiamo che la Compagnia è un ente filantropico e quindi questa è la nostra natura. Gli anelli deboli che sono sempre più numerosi e che ai noi sono sempre più deboli. Non è praticabile un Presidente. Prima è il notaio ed è quello che deve fare rispettare lo statuto. C'è uno statuto, le regole dello statuto parlano in modo molto chiaro. E quindi è una cosa assolutamente impraticabile. Mi sembra un po' una tempesta in un bicchier d'acqua preelettorale. Questa naturalmente era una conclusione su tutto il discorso delle nomine, appunto, come avrete capito. Voltiamo pagina dopo la morte di due ciclisti. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale, vittime di incidenti sulle strade di Torino nello scorso weekend, a poche distanze l'uno dall'altro. Due associazioni probici, Bike Pride e FIAB, sono scese in piazza per chiedere al Comune maggiore sicurezza. Il dibattito su cosa si può fare per evitare altre tragedie è proseguito anche oggi con un confronto proprio tra la FIAB e l'assessore all'ambiente Enzo Lavolta. La FIAB di Torino e anche altre associazioni che in qualche modo tutelano gli interessi dei ciclisti cittadini hanno partecipato ieri ad una manifestazione sotto il Comune per protestare dopo i recenti fatti di cronica che hanno visto investiti e purtroppo uccisi due altri ciclisti. Voi fate delle richieste, abitualmente al Comune, quali sono queste richieste? Qui abbiamo un esempio di una pista ciclabile che è poco utilizzabile. Piste ciclabili ci sono esattamente, sono poco utilizzabili perché non sono manutenute. Probabilmente i tecnici del Comune non le percorrono quindi non si accorgono delle piccole difficoltà che i ciclisti hanno. Sto parlando di scivoli che non esistono quando ci sono degli incroci. A volte sono anche delle cose veramente molto molto piccole ma che danno il disagio al ciclista per cui non viene incoraggiato ad usarle. Bisogna dare più ascolto ai ciclisti che percorrono le piste tutti i giorni e sono sempre di più. Il nostro problema è che proprio per spostarci fuori Torino usiamo il treno. Nel corso degli anni via via il Trenitalia ha ridotto il numero di treni che hanno il trasporto di biciclette. Tipico per esempio la linea Torino, in realtà adesso è Chivasso e Pinerolo, sulla quale è interdetto il trasporto di biciclette. Così come sulla linea verso Bra, così altre linee insomma. Per noi è molto comodo potersi spostare fuori Torino sia perché evitiamo l'uscita di Torino con tutto il traffico ma anche proprio per andare a respirare aria buona per passare una giornata all'aperto. Io credo che più che le infrastrutture ciclabili che dobbiamo fare, che sono presenti nel Biciplan, sia importante immaginare che il futuro della città di Torino sia caratterizzato da una velocità diversa. Lei ha citato il Biciplan e proprio su questo le organizzazioni che difendono in qualche modo gli interessi dei ciclisti lamentano forti ritardi dell'amministrazione. L'assessore all'ambiente concorre con tutta la giunta e quindi anche col collega alla mobilità, alla viabilità, alla realizzazione di un progetto che abbiamo condiviso, che è ambizioso, che abbiamo scritto insieme alle associazioni, che ha bisogno di stimoli e ha bisogno anche di risorse economiche. Fortunatamente nel piano operativo nazionale, nel PON dedicato alle città metropolitane, siamo riusciti a recuperare le risorse che ci consentono di finanziare finalmente i progetti che fin qui sono stati oggetto di attenzione ai nostri tecnici. Ora il tema, visto che le risorse le abbiamo trovate, è fare in modo che quei progetti siano adeguati all'ambizione di un Biciplan che in qualche modo ci posiziona o ci consente comunque di comparare il futuro della nostra città a quello al presente di tante capitali europee. Appunto, i ciclisti dicono bene i progetti, si è fatto molto, ma spesso la manutenzione, le piccole cose non si fanno, questo è un po' un problema. Sì, da assessore all'ambiente io mi occupo di manutenzione del verde, quindi so benissimo quali sono le difficoltà legate alla gestione di un patrimonio importante. Mi fa particolarmente piacere che insieme al Consiglio Comunale siamo riusciti straordinariamente a impegnare un milione di euro per favorire 2.000 nuove piantumazioni in città. Bene, proseguiamo sicuramente una notizia, questo è un argomento di cui si continuerà a discutere in città, almeno fino a quando non si troveranno alcune soluzioni come già in parte ipotizzate. Però continuiamo a parlare in qualche modo della città, delle sue trasformazioni, della sua evoluzione. Vedere Torino cambiare nei decenni, ma dall'alto a volo d'uccello, come si dice. Ora è possibile grazie naturalmente agli strumenti informatici, ma anche a un lavoro certosino che è stato realizzato dagli uffici comunali. Torino cambia, Torino che cambia è sotto gli occhi di tutti, naturalmente, ma forse vista dall'alto si colgono ancora di più alcune variazioni urbanistiche che sono avvenute nel corso degli anni. C'è stato un lavoro, certosino forse è il caso di dirlo, naturalmente aiutato dai mezzi informatici per poter confrontare le diverse aree di Torino, come si dice a volo d'uccello. Il lavoro che è stato fatto dagli uffici della città è un lavoro imponente di sistematizzazione degli oltre 15 voli fotogrammetrici, quindi le viste aeree della città che a partire dal 1936 si sono fatte sulla città di Torino. Questo lavoro di sistematizzazione di informazioni fotografiche e di collocazione su un supporto informatico consente al cittadino, al momento presso gli uffici di Urban Center e in futuro anche direttamente online sul sito internet della città, di poter vedere come è cambiata ciascuna porzione di Torino a partire dal 1936, via via negli anni fino ad arrivare ad oggi, attraverso un volo nel tempo e nello spazio che il computer consente di fare a colui che è interessato a capire come una certa aree è cambiata negli anni proprio per vedere la morfologia della città che oggettivamente è davvero variata molto. Una bella esperienza per tutti gli amanti della città e per i nostri cittadini. La città naturalmente cambia per molti fattori sociali e demografici, insomma, ma c'è un'idea comune? Anche vedendo tutte queste trasformazioni si intravede un senso comune? Sicuramente quello che si può dire è che la città in questi ultimi 80 anni ed è assolutamente affascinante guardando le immagini aeree ha avuto una fase di grande espansione in corrispondenza alla grande industrializzazione della città e poi una fase di riduzione di spazi e come fosse un organismo vivente, perché di fatto lo è, anche la morfologia del territorio a risposta alle dinamiche sociali, demografiche, che in questi 80 anni hanno caratterizzato la nostra città. Fabbriche sono state realizzate dove non c'erano e poi sono state chiuse, sono state riconvertite. In queste immagini possiamo davvero vedere la storia di Torino con una modalità veramente innovativa e certamente di grande interesse. La Corte Costituzionale, con sentenza numero 10 del 2016, ha dichiarato illegittimi alcuni articoli della legge finanziaria del bilancio di previsione e dell'assestamento al bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014. La questione di legittimità era stata sollevata dal TAR del Piemonte cui si erano rivolte le province di Asti e di Novara sostenendo l'inadeguatezza delle risorse estanziate per gli enti locali. Le norme impugnate, si legge nella sentenza, nella parte in cui riducono in modo irragionevole e sproporzionato le dotazioni finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite pregiudicandone in tal modo lo svolgimento, debbano essere dichiarate costituzionalmente illegittime. Tuttavia, per effetto di una transazione che l'attuale giunta regionale ha effettuato con le province ricorrenti, che ha comportato il trasferimento di circa 50 milioni di euro, la sentenza, secondo quanto appreso, non avrà comunque alcuna conseguenza. Resta comunque una decisione piuttosto importante. Come vengono progettati i videogiochi? Cosa li rende affascinanti? Fino al 31 gennaio, l'incubatore per le imprese innovative del Politecnico di Torino ospita la terza edizione della Global Games Game, una full immersion di 48 ore dove più di 100 appassionati dovranno sviluppare un prototipo ad alto potenziale creativo. Come si crea un videogioco? Come nasce? Il videogioco può nascere in due modi. O da un'idea originale che uno degli sviluppatori ha e che va a proporre a quelli che si chiamano, che sono gli editori di videogiochi, che nel termine tecnico si chiamano publisher, oppure il publisher identifica una bravura, una competenza specifica di un particolare sviluppatore e decide di proporre allo sviluppatore la sua idea in modo tale che lo sviluppatore possa crearla. Quali sono le influenze che un creatore di videogiochi considera? Le influenze nella creazione di videogiochi sono moltissime. Il videogioco migliore è quello che nasce da delle persone che hanno una ricchezza culturale che deriva non solo da una specifica preparazione tecnica, ma soprattutto dal fatto di essere arricchiti da vari mezzi di comunicazione, da tutto quello che può essere arte. Quali sono le caratteristiche tecniche che rendono un videogioco affascinante? Ci sono caratteristiche tecniche, certamente, perché ci può essere un appeal grafico, o una grafica, magari, o fotorealistica, o uno stile grafico molto interessante, anche se magari può sembrare astratto. Ma c'è di più, c'è tutta la parte, certamente, anche del sonoro, ma soprattutto quelle che sono le scelte tecniche proprie del videogioco, che sono le scelte di game design. Quindi come il videogioco comunica con la sua parte interattiva il messaggio al giocatore, come propone l'esperienza al giocatore. Allora, allora lì si gioca il successo di un videogioco, che sarà la somma di queste cose. Tutti i videogiochi, indipendentemente dal genere, nascono nella stessa maniera? No, la nascita di un videogioco molto spesso può essere casuale, può essere legata a un episodio della vita di una persona, banalmente dal fatto che, come è successo in certi videogiochi famosi, tu perdi tuo figlio per 5 minuti al supermercato e da quell'esperienza un po' strana, un po' spaventosa, ti nasce l'idea di un gioco. Ecco, per esempio, i videogiochi di guerra e quelli sportivi, di competizione, sono simili come nascita? No, assolutamente no. Nel senso che il videogioco di guerra può essere un gioco realistico e allora, o quasi di propaganda, come può essere successo, allora toccherà molto la parte di realizzazione delle armi, ci sarà una preparazione quasi enciclopedica nel realizzare tutte queste dinamiche. Ma un gioco di guerra può essere anche, ci sono dei giochi di guerra speciali, ad esempio, che fanno vivere la guerra dal punto di vista dei civili. Allora lì non nasce da una preparazione militare quel gioco di guerra, ma nasce da delle esperienze che delle persone hanno vissuto in guerra. Allora abbiamo rivoltato a 180 gradi il modo di vedere le cose, perché si cambia il punto di vista della camera e si vede l'esperienza della guerra dal punto di vista dei civili. Allora quello è certamente un processo diverso di nascita del videogioco. Di che creazione ti sei occupato ultimamente? Mi sono occupato di un gioco che non è ancora annunciato in questo momento, quindi non posso... Lo svegliamo in anteprima? No, non lo svegliamo in anteprima perché nel mondo dei videogiochi queste cose sono molto... Nemmeno il genere? No, il genere è una storia che viene raccontata che è molto bella, e quindi che toccherà i culi delle persone e di questo ne sono veramente certo. È stato il ministro della difesa, la senatrice Roberta Pinotti, a richiarare ufficialmente chiusa la 68esima edizione dei campionati sciistici delle truppe alpine, vinta dal quarto reggimento alpini paracadutisti, sebbene la vittoria nella competizione regina, cioè quella tra i plutoni, sia andata all'ottavo reggimento alpini. Nel costo del suo intervento, il capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Danilo Enrico, ha espresso il proprio applauso a tutte le squadre e delegazioni straniere, proveniente da oltre 15 paesi diversi che si sono uniti ai 1.400 atleti dell'esercito e delle altre forze armate, contribuendo così a consolidare la significatività di questo evento. Un'edizione particolare caratterizzata dall'impegno delle truppe alpine per la Federazione Invernale Sport Paralimpici, a favore della quale durante la manifestazione sono stati raccolti ben 8.500 euro donati al presidente della FISIP, signor Tiziana Nasi, dal comandante delle truppe alpine. Vediamo. Si è conclusa la 68esima edizione dei campionati sciistici delle truppe alpine a Sestriere, la manifestazione sportivo-militare nata nel 1931 con lo scopo di valutare il livello di addestramento raggiunto dai reparti alpini e diventata ormai un irrinunciabile momento di incontro e confronto a livello internazionale tra soldati che operano nel difficile ambiente naturale montano. Era iniziata qualche giorno fa, con una suggestiva ma al tempo stesso severa cerimonia di tipo naturalmente militare. Questa manifestazione, aveva detto il generale Danilo Enrico, capo di Stato Maggiore dell'esercito, non è solo un semplice evento sportivo, ma rappresenta anche un importante momento di confronto per quanto attiene capacità indispensabili per operare in un contesto ambientale particolarmente impegnativo. Ad accendere il braciere è stata una medaglia d'argento al valore civile Ferdinando Giannini, l'Alpino, che l'8 novembre del 2002 si fermò sull'autostrada A14 per soccorrere due persone ferite in un incidente e fu a sua volta travolto da un mezzo pesante, perdendo una gamba. A sfidarsi durante i campionati, le rappresentative di Italia, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Francia, Germania, Macedonia, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera ed Ungheria. Per quanto riguarda il titolo di campione italiano dell'esercito, il riconoscimento maschile di specialità è andato per la quinta volta consecutiva al caporal maggiore scelto Daniele Cappelletti e al primo caporal maggiore Anna Moraschetti, che ha così confermato l'ottima prestazione dello scorso anno in Valpusteria. I fortissimi atleti del centro sportivo esercito, poi, si sono aggiudicati la competizione in notturna valida per l'assegnazione dei trofei dell'amicizia e cisme dei campionati sciistici delle truppe alpine. A Pragelato, gli alpini del secondo reggimento di Cuneo hanno conquistato il titolo maschile e femminile di Biathlon con il sergente Roberto Mauro e il caporale Emanuela Piasco. Nello slalom gigante sulla pista Sises di Sestriere, la vittoria in campo maschile è andata al francese Seba Fournier-Bidot, podio tutto italiano invece tra le donne con Sabrina Fanchini sul gradino più alto. Dopo aver vinto in Norvegia, Svizzera e Austria, infine, la 26enne austriaca Stephanie Brunner si è aggiudicata anche il gigante disputatosi a Sestriere nell'ambito dei campionati sciistici delle truppe alpine, confermando l'ottimo momento di forma. Migliore delle italiane Laura Pirovano, del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, che ha concluso la gara al terzo posto. Un'ultima notizia, in Piemonte l'area fuori legge nell'82% delle centraline di rilevamento. A Torino, Astia, Alessandria, Novare e Vercelli nel 2015 neanche una stazione Arpa ha rispettato il limite dei 35 giorni di sforamento consentiti per le PM10. Lo adattino una nota, Lenga Ambiente, Piemonte e Val d'Aosta, che lancia un appello all'assessore all'ambiente perché la regione aggiorna in tempi brevi il piano sulla qualità dell'area, vecchio di 14 anni. E intanto ad Alessandria è stata fatta la scelta di chiudere il traffico delle auto per domenica, dalle 8.30 alle 11.30 su tutto il territorio comunale e dalle 14 alle 18 per i mezzi di Euro 0, 1, 2, 3 e 4. Chiuso dalle 11 alle 19 il centro storico a tutti i veicoli senza eccezione. L'ordinanza prevede anche di ridurre un grado di un grado di riscaldamento. E' evitato infine mantenere acceso il motore degli autobus in stazionamento e gli autoveicoli in sosta e dei veicoli commerciali. Quindi domenica senza auto per ora ad Alessandria. Vedremo se anche altri comuni continueranno o faranno la stessa decisione o altre decisioni simili per ridurre il livello di inquinamento che sta tornando ad essere preoccupante un po' in tutto il Piemonte. Per ora non ci sono altri aggiornamenti. Redazione.grp.it è la nostra mail per inviarci segnalazioni per eventi o fatti che vi sono accaduti. A voi tutti un buon proseguimento e un buon fine settimana. In Piemonte l'immigrazione sarebbe in calo ma si sta facendo di tutto per evitare eccessive concentrazioni. L'assessore Monica Cerutti ha spiegato ai nostri microfoni qual è il piano regionale di accoglienza. Continua a crescere l'impegno della Compagnia di San Paolo. La fondazione, primo azionista di Intesa San Paolo, ha aumentato nel periodo 2012-2015 le erogazioni, pari a 536 milioni di euro, di cui l'80% in Piemonte, con un focus sulla città metropolitana di Torino. Sono oltre 3.200 i progetti sostenuti. Dopo la morte di due ciclisti, vittime di incidenti sulle strade di Torino, due associazioni ProBici, Bike Pride e FIAB, sono scese in piazza per chiedere al comune maggiore sicurezza. Il dibattito su cosa si può fare per evitare altre tragedie è proseguito anche oggi, con un confronto tra la FIAB e l'assessore all'ambiente Enzo Lavolta. Come vengono progettati i videogame? Cosa li rende affascinanti? Fino al 31 gennaio, l'incubatore per le imprese innovative del Politecnico di Torino ospita la terza edizione della Global Game Jam, una full immersion di 48 ore, dove più di 100 appassionati dovranno sviluppare un prototipo ad alto potenziale creativo. Fino al 31 gennaio, l'incubatore per l'incubatore per l'incubatore per l'incubatore,